Partirà come di consueto nel mese di giugno l'operazione della Guardia Costiera Mare Sicuro 2022 che come ogni anno mira a garantire il sicuro svolgimento della stagione balneare ed una corretta fruizione delle spiagge e del mare a salvaguardia di bagnanti, di portisti e subacquei. Ai microfoni di TV City il comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, Vittorio Giovannone. Siamo oramai in prossimità del periodo estivo, un periodo che ci vede come Capitaneria di Porto Guardia Ostiera particolarmente impegnati a garantire la sicurezza di tutte quelle che sono in attività marittime e stiamo per entrare nel vivo di quella che è la classica operazione Mare Sicuro, un'operazione che è diretta e coordinata a livello regionale dalla direzione marittima della Campania e che poi si svolge a livello locale fra tutte le capitanerie di porto campane.